Rischia di essere indagato per omicidio colposo l'autista moldavo che alle 11 di questa mattina ha parcheggiato il camion sulla strada al servizio del polo logistico di Castel San Giovanni, contromano. Un'abitudine quotidiana per molti mezzi pesanti, stavolta però è arrivata una vera e propria tragedia. Sul camion ero, sul camion mi riposavo, guardavo la tv e dopo ho sentito i freni. Ha sentito lo schianto contro il camion? Sì, certo, perché mi è caduta anche la tv e mi è caduta giù. Mi sono uscito subito e ho trovato quella macchina sotto il rimarchio. E' sceso dal camion? Sì, sceso dal camion, sì. E cosa ha visto? Ho visto la macchina tamponata sotto il rimarchio con i carabinieri. Ha chiamato lei ai soccorsi? Sì, perché è arrivato un ragazzo con la vigilanza. neanche un minuto non è passato, abbiamo chiamato la vigilanza, la vigilanza, la polizia, tutti. Cordoglio unanime e commozione per quanto accaduto, non solo nella nostra provincia ma in tutta Italia. Istituzioni, forze politiche e sociali hanno espresso il cordoglio per i familiari della vittima e per tutta l'arma dei carabinieri. Esprimo il cordoglio ma soprattutto la rabbia. Non si può, non si può più, non si può mettere a repentaglio la vita di questi giovani. Questi poveri ragazzi che rischiano la vita per due lire, ma rendiamoci conto di quello che fanno. Siamo con l'arma e con i familiari per questa tragedia che è avvenuta. Il fatto che stessero facendo un inseguimento rende ancora più drammatica? L'adempimento del proprio dovere. L'adempimento del proprio dovere. L'adempimento del proprio dovere. L'adempimento del proprio dovere. L'adempimento del proprio dovere.